mentre si è convinto che non può stare prigioniero di un gruppo ristretto di persone. Io vedo Forza Italia qui in Lombardia come un gruppo dirigente che in un momento, oltre che essere deluso per i pessimi risultati elettorali, vive anche nel terrore, probabilmente anche ingiustificato. Tutti in Forza Italia si aspettano che le inchieste giudiziarie che hanno portato a questi arresti, alla RACOM indagata, abbiano degli ulteriori sviluppi. E davvero tutte le volte che io parlo, io ho la redazione di fronte alla regione, e quindi mi capita molto spesso, mi era capitato di andare a mangiare in quello che loro soprannominavano la messa dei poveri, perché il ristorante è davanti alla mia redazione. Io in questo momento respiro tra gli esponenti di Forza Italia questa paura, magari totalmente infondata, oddio, oddio, scapperanno altri arresti. Lo sanno loro cosa hanno fatto, io non lo so. E io penso poi che ha ragione Pulito al 100%. Berlusconi è il vecchio, Salvini è il nuovo, ha 46 anni, perché deve pensare di fare delle cose con un signore che ha un grande passato, che però ha 83 anni? Che messaggio darebbe ai suoi elettori? I suoi elettori, per esempio, il 14% che dall'ultimo secondo i flussi arrivano dal Movimento 5 Stelle? Io lo metterei per iscritto, che se su lui si rimette con Berlusconi o tornano ai 5 Stelle o vanno nella stensione. Daremo a vedere.